Nessuno se l'è sentita di rinunciare, di sacrificare le classi dell'economico sociale per un liceo che non è stato presentato ancora. È partito laddove ci sono delle scuole che hanno più sezioni. Da un lato le tempistiche ristrette, dall'altro i programmi non perfettamente definiti, soprattutto per il triennio. Così in Toscana non decolle il liceo del Made in Italy, la nuova offerta formativa varata dal governo a fine 2023. Deve servire a portare i ragazzi verso il mondo di lavoro in maniera piuttosto concreta, quindi creando occasioni proprio di confronto, di collaborazione, di apprendimento con quelle che sono le realtà produttive. Solamente quattro su una trentina di istituti regionali con indirizzo economico-sociale attiveranno questo percorso dal prossimo settembre. Due sono in provincia di Arezzo, in città il liceo Colonna e in Valdarno il liceo Giovanni da San Giovanni. Noi abbiamo aderito semplicemente per non chiudersi alle novità. Ciò non toglie che un ragionamento molto oggettivo dica che questo liceo del Made in Italy ancora non è completo, perlomeno nella sua proposta formativa. Il progetto interessa solamente i licei che hanno già attivo il percorso economico-sociale. E varia soltanto perché un'ora della seconda lingua straniera è stata sostituita con un'ora di storia dell'arte e quelle che erano le scienze umane sono state sostituite con tre ore di economia. Il liceo del Made in Italy a partire dal 23 gennaio dopo il che della regione potrà essere scelto dalle famiglie attraverso la piattaforma unica. Lo certo è che se qualora non ci fossero iscrizioni noi manterremo le nostre tre sezioni di economico-sociale.